24, 60 chili, angolo rosso, Anastis, Geordios, Cipro, angolo blu, chili, Sciacu, Turchia, arbitro, Spagna, giudice numero 1, Italia, giudice numero 2, Marocco, giudice numero 3, Siria, giudice numero 4, Polonia, giudice numero 5, Slovacchia. Gürtice, 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 Gürt Per round prima ripresa. Grazie a tutti. grazie Grazie a tutti! 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 Second round, seconda ripresa! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!